Le persone che ritengono che le altre persone, quelle che non vedono, quelle che non hanno mai visto, siano delle pedine. E' come un divertente videogioco, tu muovi le tue pedine, ti interessa come, l'importante è che fruttino qualcosa. Quelle persone minano la democrazia perché tendono a vedere il cittadino, tutte le persone, non come loro stessi, come persone viventi, come persone con dei sogni, come una voglia di stare bene, stare tranquilli. Li vedono come pedine, li vedono come giocate, questi sono i nemici della democrazia.